Continuità la parola d'ordine rossonera dopo il primo successo stagionale, i sorrisi, le soddisfazioni di Rito. Una rondine però non ha mai fatto primavera e dunque la settimana che precede la sfida al provinciale di Trapani, dolcissimi ricordi in terra di Sicilia con la conquista della prima Serie B, è vissuta con particolari significati e le giuste apprezzioni. Il 4-3-3 di Daversa nella sfida all'Ascoli ha girato bene, mostrando uno spettacolo apprezzabile e ampi margini di miglioramento. La tifoseria si coccola i gol di Ferrari e il sinistro di Capitano Mammarella, ma sono attese prestazioni importanti anche dai più giovani. Uno di questi, Crecco. Prima impressione in rossonero? Diciamo che mi sto trovando bene questa squadra perché tutti i compagni sono stati subito a disposizione e per me mi sto trovando davvero bene. Prima vittoria? Come è stata salutata? La prima vittoria è importantissima perché è la prima partita in casa e non ci poteva essere l'inizio migliore in casa, quindi continuiamo così. A livello tuo personale come valuti le prime prestazioni? Diciamo che la prima non sono entrato, ero in nazionale, sono tornato di giovedì a allenarmi e quindi non ho disputato. Da questa ero ristato in nazionale in settimana, però sono entrato e ho dato un contributo alla squadra e sono contento di aiutare sempre i compagni della squadra. Pesano gli impegni nazionali? Diciamo che quando ci stanno gli impegni così ravvicinati tra una settimana e l'altra si pesano, però è sempre piacevole. A Trapani? A Trapani andiamo per fare una bella partita, loro hanno fatto una buona partita con il Latina, anche essendo un uomo in meno, però possiamo far bene. Turchi, Fofanè e Marilungo sono ancora infortunati. Ferrari e Aquilanti hanno accusato solo affaticamenti leggeri, dunque sono pronti alla sfida. Intanto la società ha prolungato la campagna abbonamenti fino a sabato prossimo. L'obiettivo è quello di superare le 2.000 tessere, siamo a quota 1.650. I risultati positivi aiutano tanto in questo senso.